Al termine del seminario organizzato dal CNA in collaborazione con Politech e con Axel sui sistemi d'allarme e antintrusione siamo con il relatore tecnico David Cicognani, esperto in ambito impianti security. Quali i messaggi più importanti da trasmettere agli installatori oggi? I messaggi più importanti sono innanzitutto che le normative ci sono, vanno rispettate, però lo scopo di questo seminario è fare in modo che le normative vengono utilizzate a favore degli installatori, quindi per la vendita, per la tutela dell'installatore e da un certo punto di vista quindi si usano gli strumenti già messi a disposizione, quindi tutela e anche per vendere di più. Benissimo, da tecnico qual è la sua visione sulle reali necessità di questa categoria di installatori di sicurezza? Sono diversi dal punto di vista del territorio, quindi io girando un pochettino ho visto che cambia un pochettino l'ambito. Qui, in questo territorio laziale, quindi anche in particolare a Roma, c'è una certa necessità di tutela da parte dell'associazione di categoria, quindi un'informativa verso il pubblico del fatto che gli impianti devono essere fatti in un certo modo per beneficiare di tutto quello che riguarda questo, quindi sconti a livello assicurativo oppure maggiore protezione da questo punto di vista, quindi gli impianti devono essere fatti in un certo modo e le categorie devono proteggere gli installatori, quindi le categorie tipo CNA. In altri ambiti invece le esigenze sono diverse, quindi dipende anche dalla territorialità. Dove siamo noi, quindi nel territorio Cesenate, non ci sono queste influenze di installazioni così spinte verso il privato e quindi in questo caso qui si va tutti sull'etica, sulla professionalità e sul servizio post vendita. La normativa ci aiuta anche in questo perché richiede o impone una manutenzione e sulla manutenzione possiamo anche trovare un profitto, un guadagno ma anche fidelizzare il cliente, quindi diciamo dipende un pochettino dal territorio che è frammentato. Oggi era presente l'intera filiera, dei produttori agli installatori grazie appunto al CNA e anche i progettisti. Quali quindi i ruoli secondo lei? Allora, installatori e progettisti sono molto similari come ruoli e sono molto vicini, tant'è vero che la normativa in questo caso impone il progetto sempre. In alcuni casi può essere realizzato anche solo dall'impiantista elettrico, quindi dal responsabile tecnico, in altri casi è obbligatorio un professionista, quindi un ingegnere, un tecnico abilitato. Quindi il ruolo in questo caso si mescola un pochettino. Quello che secondo me manca è il fatto che il progettista e l'installatore capiscano che debbano collaborare, quindi non sono nemici, non siamo il controllato e il controllore, ma sono persone che lavorano. Il progettista avrà un cliente, l'installatore avrà un cliente, ma il progettista che collabora con un installatore può avere tanti clienti assieme e quindi concentrarsi per attaccare o comunque non collaborare con l'installatore non porta da tante strade, quindi secondo me sono molto uniti. I costruttori ci mettono a disposizione gli strumenti per lavorare, quindi dobbiamo essere attenti a tutto quello che ci propongono e soprattutto quando vengono a bussare alle nostre porte spesso le chiudiamo, ma non è così che dobbiamo fare. Magari le regolamentiamo, però comunque dobbiamo essere attenti, perché se non conosciamo i prodotti che vengono proposti e non può essere un data sheet la soluzione, deve essere un commerciale o un tecnico commerciale che ci spiega le caratteristiche di questo prodotto. Dal punto di vista commerciale questo prodotto, una volta che lo conosciamo, sappiamo come collocarlo, come venderlo e abbiamo delle argomentazioni di vendita in più verso i nostri clienti finali. Quindi alla fine si fa gioco di squadra, è l'unico modo, fra progettisti, installatori, distributori e installatori. Passando invece al campo del mercato vero e proprio, come evolverà la domanda? Qui è difficile rispondere, perché la tecnologia va molto più veloce del normatore. Quindi dal punto di vista, per esempio, della videosorveglianza, la norma non riesce proprio a stargli dietro. Ogni sei mesi c'è una rivoluzione. Questo è un vantaggio per noi, perché possiamo vendere altri prodotti, perché l'app, per esempio, per l'utilizzo dell'impianto o della videosorveglianza, un anno fa, due anni fa o tre anni fa non era richiesto, adesso è richiesto sempre. Quindi possiamo riconfigurare gli impianti e andare avanti. Quindi dal punto di vista della tecnologia, per fortuna va molto avanti e quindi ci consente di andare a fare retrofit sugli impianti esistenti o un revamping sugli impianti, quindi benvenga la tecnologia. Dal punto di vista, però, dell'evoluzione, bisognerebbe che tendesse un po' più verso l'etica. Quindi produzione e anche strumenti di marketing per i clienti, diciamo, più dedicati a installatori di qualità. Quindi avere un'installazione più di qualità.